I laboratori segreti Oh la famiglia l'ha riunita Ma come? È tutto illuminato Io sono veloce e lei è invisibile Chiuseremo La signora incredibile che va verso l'F4 F4 basita Ok niente oggetti segreti Andiamo avanti Muori Il colpo a distanza Di miss incredibile È molto incredibile Per fortuna anzi Muori Dio mio Potresti completare tutto il gioco facendo solo quello Allora aspetta Ecco fatto Serve solo la giusta distanza Oh ma guarda ci hanno chiuso e questo è spento Come farò a passare? Ecco fatto Non mi freghi più come l'altra volta Poi Allora Ste sequenze Vorrei parlarne due secondi Le sequenze di cose Che escono sempre dalla lava Sono infattibili Dove devo andare? Dovrebbero decisamente Muori 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 Aia Muori Sono infattibili queste scene Non ci potresti salire Scotta come l'inferno Quella piattaforma Di metallo su cui sei sopra Scotterebbe come l'inferno Non ci potresti andare I tuoi bei piedini plasticosi Sarebbero sciolti Madonna cara Ok Eh bella domanda Ok questi cosi Non si possono distruggere Ok no Stavo per dire A meno che non siano loro a distruggerli Ma A quanto pare non è così Ok si in realtà Se gli sparano O se sono io Aranciagli li contro Si rompono Vai nella lava Stronzo Oh no L'abbiamo salvato Maledizione Allora aspetta che ce n'è Uno sopra Ecco fatto Oddio L'ho spinto via Muori Ecco qua Vai via Mi fa ridere come Tieni ti do una spinta Ma io come passo Ah così Aspetta Io non lo faccio No Io ho sparato nella schiena Sei terribile come soldato Aia Muori Dovrebbero decisamente essere più flessibile Beccati questo Ancora vivo Allora non credo si Minchia Vai via Vai via nella lava Maledetto Ok questa me la sono Totalmente meritata Non c'era motivo per cui io Dovessi Ci passo da qua Non c'era motivo per cui io dovessi prendere quella granata Eppure io ho lanciato il braccio solo per Per lanciarla Madonna mia Idiota Allora Non ci passerò mai da qui Non ci passeremo mai Nonostante lei potrebbe benissimo allungarsi e passare dall'altra parte Via Ho bisogno di una cura Qualcuno mi dia una cura Forse dentro quei barili Che esplodevano sicuramente qualcosa c'era Però Ne dubito visto che Si potevano rompere solamente se spingevo i nemici contro se loro gli sparavano Mi serve una cura per favore Anche una gialla mi basta Mi accontento Quella è rossa Perfetto Beccati questo Beccati questo Ecco fatto Allora Grazie Apriamo probabilmente un ponte Vediamo Ah no sono i rampini ok Mi serve un bagno caldo Se vuoi c'è la lava Oh Chi ha sparato? Scusami Da dove sono arrivati quei colpi? Oh Calmi Ecco fatto Quello che più mi importava era tirare giù quello volante Presi tutti e due Muori Ok Allora Dobbiamo Dobbiamo passare Quella è colpa di tuo marito Tranquilla Preso Oh Oh Calmi un po' con quelle bombe Aia Cazzo Vai via Cavolo Nel momento esatto in cui ho allungato il braccio Ok Rieccoci qua Andiamo Piano piano Dall'altra parte Due ste maledette granate Vai via Dovrebbero decisamente essere più flessive Quello cos'è aspetta Ah è un altro nemico Tieni No Eh certo A che distanza le stai lanciando ste granate tu Donna mia Vai via Santo cielo C'è qualche cura Qualche oggetto No Perfetto Allora Si sale Andiamo Di qua Giusto Si Ok Prendi Dove sto andando La fu Dov'è Prendila Che succede Dio mio Per un attimo Ho pensato di finire nella lava È stato terribile Ah Ho capito come si gira Tu devi Farlo Ah no aspetta Ho capito come funziona Tu devi Farlo Scendere Diciamo Il Il carbone Il contenuto Che ne so che c'è dentro L'uranio impoverito Ecco fatto No 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 Madonna Stavo dicendo Tu devi aspettare che lui Lasci giù Il Il carbone Penso Poi una volta che lo lascia Devi ritornare su Lo lasciamo giù un attimo Aspettiamo che lascia giù Quello che deve lasciare giù Mi piace Lo straccio Ok Non l'ha lasciato giù Ah No Ho capito il giro Allora In realtà non è Devi aspettare Tac Che lascia giù Ogni volta che quello si abbassa Tu non ti puoi più aggrappare Quindi Devi sperare ogni volta Di essere sul carrellino Giusto Dove sono le guardie Aia Vi dispiace scendere Magari così vi picchio Quello è scomparso Aspetta che Se scompare anche lui Mi serve un bagno caldo Se scompare anche lui Sono contento Perfetto Sono despaunati Meglio così Non è vero Non sono despaunati Guardalo lì Guardalo lì Guardalo lì Aia Stai buono Che non voglio rifarla Questa parte Non mi sparare i missili Maledetto Marrano Dai Tu vevi più avanti Dov'è? Dov'è andato? Troppo lontano Riesco a colpirlo Dai 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 che ci siamo Dai che almeno il terzo ci arriviamo Dai vai più avanti Ecco fatto Orca miseria Quante complicazioni per il niente Ora arrivano altri sicuro Pronto a capire da dove Eccolo lì Dai Vieni più vicino Sarò anche elastica Ma non sono infinita Ok dai dai Perfetto Oh finalmente Tutti e quattro attivi Ok calmo Dove posso scendere? Oh Oh Calmi Calmini un po' tutti Che io Sono a poca vita Devo capire dove sei Eccolo Allora Finché stai lì lontano Non sei un problema Va bene Ok Ho avuto sinceramente paura di Anche questo sarebbe Implausibile Però vabbè Questo Diciamo che è nell'ambito L'ambito videoludico Lo accetto Visto che È solo una piattaforma Che ti passa Dall'altra parte E per fortuna Punto di controllo Andate a morire Andate a morire tutti Andate a morire tutti Ok Finché sto qua nel lato Uh Sono al sicuro Ok Ecco fatto No l'importante è che c'era Una cura tesoro Altro che una ruba cuori Una ruba salute Dai Avvicinati un po' Marrano Maledizione Sempre ste situazioni Terribili Quando hai poca vita E io come pa- Come passo Allora sono sicuro Che devo aspettare Quello con il lanciagranate Non è vero Non ha il lanciagranate Volevo solo fare il furbo E passare dall'altra parte Ma non è la soluzione Allora Domanda Come si passa Da questa parte L'unica idea Che mi viene Ok Ha funzionato Perfetto Passa Anzi Fa un culo Io vado Vado a curarmi Prima Vado a curarmi Perché questo giro Per fortuna L'avevo lasciata giù Questa Grazie E ora Scappa Dai Basta Te fucilate Maledetti Dai via Ancora Ma quanta gente siete Dai Spara Ecco fatto Vai via Tutto il gioco con lei Lo puoi fare Con solo il tasto R1 Veramente Yes Punto di controllo Aia Aia che dolore Magistrale Passa Ecco fatto E ora Strano Una curva così Senza niente dentro Ho sentito però qualcuno che mi sparava Scusami Ah no ok Pensavo fossero riapparsi Ok Altro percorso Visto che c'era qualcuno Allora Qualcuno mi ha sparato una granata da dietro Va bene Passiamo Grazie Non so Dove Gli ho preso e lanciato Vai Spara Ah mancato Dai Tira bene Non riesco a colpirti Madonna mia Ecco fatto Allora Qua si può fare E' una roba a tempo Secondo voi Vorrei Dire di si ma Non riesco a capire La distanza Delle scosse elettriche Ecco fatto Aia Ma smettila Madonna mia Eh neanche io lo farei Se fossi me Ecco qua Allora Primo computer Poi Quello è un rampino Posso lanciarmi No peccato Si era invece proprio un rampino Solo che si doveva ancora abbassare Aia Ma che male Basta Smettetelo di spararmi Ecco fatto Ecco fatto Niente più guardie Passiamo Ha aperto la porta Uh le cure Le cure Muoviti Muoviti Vai 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 Ecco fatto Oh Finalmente Punto di controllo Yes Grazie Ok Cosa ti aspetti Che io faccia In qualsiasi altra situazione Un super elastico Avrebbe fatto così Si avrebbe arrampicato Alla griglia Lì E si avrebbe salito Sopra quel computer Comunque Ecco qua Aspettiamo L'altra scossa elettrica Che finisce Eccoci qui Oh Ora Quella è una cura Si Aspettiamo Allora Ad usarla Calmo Ecco Fatto Qua Infiliamo Perfetto Infiliamo C'è anche qua dentro Meno male che vanno tutti Alla stessa velocità E non va uno più lento Uno più veloce Rampini Come nostro solito Dove però Ecco Calmo Eccoci qua Perché ti cacci sempre In situazioni così terribili Amica mia Allora Uno Mi piego ma non mi spezzo Due Aia Che male No Ce l'avevamo fatta Allora Devo capire bene Il tempismo di sto macinino Perché fa Lo stretching è molto importante Uno tutto assieme Si disattiva E poi fa uno E due Vediamo eh Vedi lo fa A tempi diversi Quindi Quindi uno Due Tre Perfetto Vai 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 Perfetto Ok C'erano tre Grazie Lei è un santo computer Lei è un bel direttore Quanto siamo Cinque Ok L'ultimo punto di controllo Quindi Yes Ok Ovviamente Allora aspetta Come Come dovrei fare A passare Scusami Immagino che quelli Continuano come rampini Ma Come ci arrivo Perché non mi ci fai passare Maledetto No Qua ci muoio Se lo faccio Allora Calmi tutti Il prompt di comando Perché è così bassa La finestra Ecco fatto Ok È un po' complesso Per via Del gioco stesso Ah ok Sto dicendo Che cosa c'era In sta stanza Beccati questo Allora Beccati questo Dobbiamo farci Il giro All'inverso In sostanza Ok La cura Vabbè Tanto qua non ci torno Quindi tanto vale Prenderla Tanto nelle altre stanze Sicuramente c'è Quindi Meglio prenderla Per sicurezza Quale hai disattivato Tu Ovviamente Quella che va Nel verso In verso Allora Calmo Eccoci qua Meno male Allora Qua ci posso entrare Sembrerebbe di no Apriamo L'altro computer Che ha aperto La porta Ma non ha disattivato L'elettricità Grazie Dell'ascensore Ah Finita Perfetto Livello Completato Calorie Bruciate 1735 5